Ok 15 qua 11 qua Questo Questa rottura di palla La frumentazione Questo L'ho messo da un cantuccio Le questioni sono qua Per palla Questo Qui c'è la strattoria E questo qui serve da far fuori il più presto possibile Ma è vero distante Povero di rimanere bottigliato Come al solito Solo che il più importante è questo Secondo me Quelle mine che mette Sono veramente una rottura Bisogna vedere qua quando si libera A che punto si libera Ok 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Non almeno ci arriva Può arrivare qua 1 2 3 4 5 No No Boh Portiamolo qua e basta In questo caso Gli ordini C'è l'ordine Di quelli che non va Assolutamente bene Però la battaglia Non la vedi finché Non iniziano Vedete in mezzo I dretitri Dretit Detriti Pardon Ma in quale detriti Palla Allora Poi tocca quello là Poi tocca quello Quello stronzo Quello stronzo Lì Ha due caselle Intorno alla bomba Che fa danno E quindi è un problema Raggrupparsi Poi tocca Mogr Poi finalmente tocca Quello Può arrivare al massimo Fino a qua Non so se userebbe La volontà Per arrivare Oltre C'era solo una Potrei portare Lanciere Qua Qua Vabbè avviciniamola E basta Mi facciamo attaccare Quando arriva La stessa cosa qua Ne posso portarlo qua No Portiamolo al massimo Del suo Ok Portiamo avanti Mogr Ecco che arriva E portiamo Prumiro qua Dunque Troca quello Troca quello Quello No Dobbiamo fare un arc Di full Minima base Anche se Ok Questo Avviene in giù Non riusciamo a colpire Non riusciamo a colpire Dobbiamo arrivare il gol qua Per colpire No Vediamoci qua Ah è arrivato Fino qua Non riusciamo a colpire Per arrivare almeno fino qua Portiamola a 1 Così Ha una bella chance Di schivare In teoria Però c'ha un punto Volontabile Ecco Rompere la palla Questo è un pericolo Per evitare La pianifica Accuratamente Proviamo a portarlo avanti Un attimo Non può fare niente Nesta qua Intanto qua c'è Cromero E lo piazziamo Qua No 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 La pietra fermentazione E dopo due turni Uno Non me lo ricordo Penso due Perché sennò Sennò un po' Minore Cinque caselle Perché cinque caselle Uno Due Tre Beh in questo caso sarebbero Sì Penso che sia più Probabilmente Non Lasciamo stare Va, riparare l'armatura Mi sembra così utile Poi ce n'è ancora un sacco Guarda che fa' sta cosa, vampa Tutte le unità adiacente, ma non c'è nessuno adiacente Ah, questo lo ammazzo però Se lo attraffizziamo così Vabbè Vabbè che tutto è lui, eh Non ce l'ho mai provato No, solo quello Bene, bene Mi sta anche bene Io vorrei andare su quel bersaglio lì però Però userebbe tre Proviamoci lo stesso Allora Allora, sono tutto con la lora Allora 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 Portiamola qua un attimo Facciamo Allora Poi c'è il wind Quindi non Vabbè, non lo rifacciamo Allora 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 Ripariamo Arlui un attimo Ok Attacchiamo questo E poi mandiamo avanti il mio ruolo dovrebbe toccare prima lo vinto salutiamo però un po' di minato questo speriamo, vediamo che si ferma qua, la lega è incastrato bene tocca a fromboliere 15, vabbè no, rischio di ammazzarmi no, rischio di ammazzarmi ok andiamo verso crumero, con crumero ripariamo di nuovo l'armatura qua no, rischio di ammazzarmi andiamo ad abbassagliare l'armatura eh però, questo fa tanto male facciamo ancora i suoi undici non possiamo ancora incidere questo, la si sposta questo lo portiamo qua adesso cosa? dove avanza? questo lo portiamo sicuramente qua ok è una qua, poi dove è l'altra? questa è un'altra, la volontà va bene, ma dove? diavola è l'altra? detrezziamo un attimo di due da sotto lui? eh, se c'era sotto lui no, no veniamo Ah, ok Va bene, finita Devo spostarlo lui Quando tocca lui Ok, perfetto Ok Senti gli uomini con le asce esultare Mentre l'ostacolo Mentre l'ostacolo L'ostacolo di legna si rompe E scompare nel fiume Ma i distruttori si sono raggruppati Uno di loro sembra particolarmente minaccioso I combattenti intorno a te sono stanchi Ma potete guadagnare abbastanza tempo Perché tutti salgono sani e salvi sulle navi Abbattiamo di nuovo dai Ci renderemo gli altri quando avranno finito il nostro lavoro a quindici Visto che siamo tutti bene in piedi Quelli intorno a te ridono e si preparano per un'altra battaglia Ah, eh, giustamente parte da qua Questa cosa che faceva? Bampa Inizia un altro fromboliere Non, 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 non Non, non, non Dunque... Vieni a riparare... Armatura a lui... No, facciamo una ritirata un attimo... In modo da sperare... Che vadano su... Che però... Ha poca vita... In realtà... Non ho tenuto in su... Solamente la... La corazza... Ha 20 addirittura best... E' ancora esplosata la stronza... Che deve essere una che passa... Ma si... Qua... E' ancora... E' ancora... Diogo... Quindi... Molto dai potretti di essere... Si! E' ancora... Si! Ma si! No! 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 l'intero, da? Comunque sei dalla metà, quindi da due o tre, così ne da quattro circa, appunto, iniziano una, 19, non ho assolutamente un po' di vita, ho visto che c'è per evitare le schivate, lo so anch'io, ma ci ho sperato, eccole qua, due. No, iniziamo a allontanarsi un attimo di là, l'ho seguito. Porca miseria, davo per scontato che non ci andasse, invece c'è andato. Non farò più questo ruolo, spero. Non farò più questo ruolo. Anticipiamo un attimo questo. Andiamo, la massima armatura... non ci arriva. Quattro, due... tre... Non basta, vediamo così dove fare i conti. Ok, non è caduto. Andiamo a spostare Mogr, ma mi sa che no. Prendiamo anche Mogr. Non riuscivo a spostarlo. Andiamo a spostarlo. Andiamo a spostarlo. Indiltreggiamo tutto. Non ripara più un accidente. Ripara uno. Non ce la fa però un pelo, perché va meno questi tre. neanche quello. Neanche quello. Noi blocchiamo, ma ci chiamiamo bloccare la strada. In caso posso fare i furbi. Noi. 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 Ok. Se non fare questo... Ma questa qua non è mai esplosa Queste due qua perchè non sono esplose Perchè non c'è nessuno sopra La leggiamo questo La framboliera ancora non ci sono affaionato Per niente 5-5 di armatura Ma è ottimo Andiamo a tentare il suicidio qua Andiamo a raggiungo questo perchè sennò Per assurdo non c'è ancora cagato Portiamo la 1 Oh guarda che vuoi tu Eh no mi becco anche Non so veramente niente Vediamo meno quello che possiamo dargli Beh Ok questo lo togliamo di mezzo Dai 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 che ce la fai Ok Che botta C'è un bel trafiggere da qua Ce n'è una dura cosa 3-3-2-1 Non so se ce la fa Ecco qua Ho il dubbio Se colpire lui Ma forse muore Per la bomba Non so come funziona Sta cosa Se la bomba sotto i piedi Due danno a forza Mi fa certamente troppo poco Anche di armatura E sennò sono tentato Di dargli Anticipare il turno Adesso Ok E andare qua E andare qua Non abbiamo più Non abbiamo Non abbiamo più Non ho guardato bene Non ho più Ma pure cosa Caffo Che sfiga Niente È andato Tanto non cambia niente E' molto probabilmente che questo poi vada su questo E' andata proprio veramente male Ma esplodesse ste stronze nella mina Se venisse su di me non sarebbe male Se sbagliassela di A venire su di me Vediamo Ok E' venuta su di me E la mina non è esplosa Ma che cavolo E' stupida Perché dentro anche lei ma non dovrebbe ucciderla Ok adesso lo finisce lei 8 Eh fazzela 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 Perché non abbiamo usato Rook Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti